Ben trovati gentili telespettatori, nuovo speciale dedicato all'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della nostra diocesi e do un caro benvenuto al dottor Stefano Tenti che è membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Dottor Tenti in apertura ricordiamo anche i telespettatori che non lo sapessero proprio quella che è la funzione del nostro istituto diocesano. Sì, parto da lontano ma cerco di essere abbastanza rapido. Nel 1985 lo Stato italiano e la Santa Sede stipularono il secondo concordato dopo quello del 29 con Mussolini. Questo secondo concordato portò tante novità, tra le altre l'istituzione per ogni diocesi di un istituto diocesano per il sostentamento del clero, nel senso che lo Stato italiano non si occupava più né direttamente né indirettamente, diciamolo in termini volgari ma comprensibili, di creare una parte dello stipendio dei sacerdoti, dei preti. Quindi bisognava che la Chiesa si attrezzasse per immaginare come fare, perché anche i preti come tutti noi mangiano ed è logico che debbano avere di che mangiare. Hanno poco, però quel poco deve essere in qualche maniera garantito. Bene, tra le varie istituzioni nacquero questi istituti diocesani che hanno il compito di gestire, di curare i beni immobili delle diocesi che non sono più pertanto in grande parte, non la totalità, ma in gran parte non sono più proprietà della diocesi o delle parrocchie, ma di questo istituto nato nell'85. Ogni diocesi ha il suo, viene retto quasi come una normale azienda, c'è un consiglio d'amministrazione della quale faccio parte io, attualmente il presidente del dottor Mauro Conticini, il presidente dell'istituto di Arezzo della diocesi nostra, quella alle mie spalle, di Arezzo Portona Sansepolcro. Questo consiglio d'amministrazione amministra appunto una quantità innumerevole, enorme di beni immobili. E voi capite, duemila anni di lasciti alla chiesa, insomma qualcosa hanno portato. E quindi sembrerebbe di una ricchezza spropositata, in realtà non è così, perché oramai, e beh questo lo sanno tutti i nostri telespettatori, una casa, un appartamento, se viene affittato, manutenuto regolarmente, eccetera, costituisce un piccolo reddito. Ma se questo non fosse possibile, perché vecchio, perché gli impianti non sono a norma, eccetera, è solo un costo. Così i terreni, non so quante centinaia di, probabilmente, no, senz'altro migliaia di ettari, sono della nostra diocesi, sono di proprietà di questo istituto, ma questi migliaia di ettari, se possono essere affittati per coltivare una qualsiasi, il grano, il tabacco, benissimo, danno un piccolo reddito, ma altrimenti costituiscono un impegno, perché devono essere manutenuti, eccetera. Insomma, il compito degli otto consiglieri d'amministrazione, quattro laici e quattro sacerdoti, è proprio questo, far fruttare nei modi corretti i beni immobili della Chiesa, della Chiesa retina, e con questi frutti contribuire al sostentamento di tutti i sacerdoti. Ecco, ricordava, dottore, che alle nostre spalle vediamo proprio la cartina della nostra diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, è una grafica realizzata per la carta dei valori dell'Istituto Diocesano del Sostentamento del Clero. Anche questa è una bella iniziativa che è stata realizzata, fortemente evoluta dal dottor Conticini, che ci può magari spiegare meglio, perché veramente è un'iniziativa che ha dato ancora più valore alla realtà dell'Istituto Diocesano. Sì, direi di sì. Carta dei valori, ho molto sommariamente descritto cosa fa questo istituto. Pertanto è un'azienda che però fa parte della Chiesa, questo comporta una differenza notevole e sostanziale nei confronti delle altre aziende. Le aziende, le società nel nostro mondo capitalista hanno il dovere di produrre un reddito rispettando la legge, ma indipendentemente dal danno che eventualmente la produzione di questo reddito può arrecare, per esempio, ai debitori. Nel caso della Chiesa dell'Istituto Diocesano è un'azienda, quindi in qualche modo deve tener conto, e se non dà il sostentamento, della produzione di un reddito. Ma faccio un esempio comprensibile per tutti. Una famiglia che è in affitto in un appartamento di proprietà di questo istituto, si ritrova con il padre licenziato, la madre disoccupata, quindi non è in condizioni di pagare l'affitto. Un'istituzione della Chiesa non può sfrattarli. E beh, non è una piccola differenza rispetto ad altri. Certo, siamo uomini, ci si deve preoccupare che questi non facciano finta di non avere un reddito, però nel caso che questo fosse accertato e purtroppo talvolta è così, beh, capite voi che quello che ho detto si giustifica ampiamente. Per far questo però, genericamente ci si richiama ai valori della Chiesa Cattolica, ma per essere più precisi, più corretti, più moderni, è stato pensato un libro, un libretto, una carta dei valori, che comincia con la parabola dei talenti del Vangelo di Matteo. La parabola dei talenti, chi mi ascolta penso che se lo ricordi, comunque, il Signore, dette a un servo dieci talenti, a un altro dieci talenti, cinque talenti e via. Un servo riportò i talenti che gli erano stati dati esattamente come glieli aveva dati il Signore. Un altro li sperperò tutti, ma ce ne fu uno che, ricevuti dieci talenti, li fece fruttare, lavorò, eccetera, e dopo un po' di tempo restituì a chi glieli aveva dati, nel frattempo era vissuto pure lui con quei talenti, restituì a chi gliel'aveva dati 20 talenti. Bene, questo è uno dei compiti dell'Istituto Diocesano del Sostentamento del Clero. Grazie dottore, e peraltro, appunto, come ricordava lei, che ha anche esperienza nell'ambito imprenditoriale, alla fine il Consiglio di Amministrazione che è stato realizzato coinvolge persone di variegate realtà, in variegate categorie, proprio a segnalare anche l'importanza proprio di occuparsi di vari settori per curare al meglio quello che è il nostro istituto. Sostanzialmente l'istituto non è una società responsabilità, non è una società di capitali vera e propria, naturalmente, però via via che passano gli anni, tende, salvaguardando i principi, non religiosi, principi cristiani, ma tende ad assomigliare sempre di più a una normale azienda. Se vuol sopravvivere nel mondo di oggi è indispensabile fare così. Secondo me non è però una costituzione, secondo me è una cosa giusta, perché per fare la carità bisogna avere di che fare la carità, quindi devi sviluppare, caro istituto, dobbiamo sviluppare una mentalità, che devo dire però è già abbastanza progredita rispetto perlomeno agli anni precedenti, dobbiamo sviluppare una mentalità che non veda il denaro, passatemi il termine un pochino maleducato, lo sterco del diavolo. Il denaro è il frutto del lavoro dell'uomo, può anche essere frutto della ruberia, ma nel caso nostro deve essere il frutto del lavoro dell'uomo. Quindi, il progressivo avvicinamento dell'istituto diocesano ai modi di fare di una qualunque azienda moderna, imprenditoriale, io lo vedo un passaggio importante, purché, e per ora così è avvenuto senza ombra di dubbio, si ricordi che è un'istituzione della Chiesa. Grazie, grazie davvero Dottor Tenti per questa spiegazione precisa, puntuale e chiara di questa realtà importantissima all'interno della nostra Chiesa diocesana, dell'istituto diocesano per il sostentamento del Clero. Un caro saluto, grazie ancora e grazie ai tre spettatori che ci hanno seguito da casa. Grazie. Grazie.